Ennio Porrino, Nuraghi, tre danze primitive sarde per piccola orchestra, 1952 Danza della terra, allegro barbaro, danza dell'acqua, lento e calmo, poco più mosso, allegro sereno Danza del fuoco, allegro vivo Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, della radio televisione italiana, diretta da Ennio Porrino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti